Due denunce per accoltellamento individuati dalla squadra mobile due giovani che hanno ferito due loro coetanei in via Manzoni. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Vediamo insieme il servizio. La squadra mobile di Trapani è risalita ai presunti responsabili dell'aggressione ai danni di due ragazzi di 17 e 18 anni avvenuta la notte del 17 novembre scorso in via Manzoni a Elice. I due furono ricoverati in ospedale con una prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni per ferite al torace, all'addome e alle braccia. Due giovani sono stati denunciati, uno alla procura della Repubblica di Trapani e un altro a quella dei minorenni di Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, quella sera all'interno di un bar di Trapani, vi era stato un litigio per motivi di gelosia fra i quattro ragazzi. A distanza di qualche ora, alle due di notte, la discussione era ripresa, lontano dal locale. Durante la nuova lite, RG, 21 anni, di Trapani, aveva estratto un coltello e colpito i due avversari. RG era poi fuggito insieme al complice minorenne di 17 anni che aveva partecipato alla lite. I due feriti avevano chiamato subito i soccorsi e sul posto erano arrivate un'ambulanza del 118 e una volante. La squadra mobile ha ricostruito l'intera vicenda anche attraverso le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell'accoltellamento. RG e il minorenne sono stati denunciati per lesioni aggravate. Il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, dottoressa Rosanna Penna, che ha coordinato le indagini, ha chiesto per RG il giudizio immediato, considerata l'evidenza del gravo quadro probatorio a suo carico raccolto dagli investigatori. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, vi aspetto dopo la pubblicità. Stalker ai domiciliari, cinquantenne di Castellammare del Golfo obbligato al braccialetto elettronico, doveva rimanere lontano dalla ex moglie ma ha violato la prescrizione del magistrato. Paceco, scontro sindacato amministrazione, la CISL Funzione Pubblica non firma il contratto integrativo aziendale e lo considera addirittura illegittimo. Restauro conquistato, il voto sul web assicura l'intervento sul dipinto ad olio su tavola conservato nella cappella della mortificazione di Trapani, il contest nell'ambito della via dei tesori. Villino Nasi, Tranchida rilancia. Il sindaco di Trapani chiede all'ex provincia di annullare in autotutela il bando di affidamento. E per lo sport, rientro da protagonista. Felice Vacuo, tornato in campo dopo un lungo infortunio, domenica contro il Chievo è stato l'uomo decisivo, sua la rete della vittoria. Partanna, capitale dell'innovazione, fino all'8 dicembre il centro bellicino ospita la prima edizione di SITA, settimana delle scienze, innovazioni, tecnologia e ambiente, nell'approfondimento sintesi ed interviste. Un buongiorno a tutti voi e ben ritrovati con le nostre notizie. Sottoposto agli arresti domiciliari uno stalker di Castellammare del Golfo, le indagini sono state svolte dalla Polizia di Stato. Vediamo. Un cinquantenne di Castellammare del Golfo è finito agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braceletto elettronico per atti persecutori contro l'ex moglie. La misura cautelare è stata disposta con ordinanza del GP di Trapani e su richiesta del sostituto procuratore Morri della Procura della Repubblica di Trapani, in seguito alle indagini degli uomini del locale commissariato, presso il quale la vittima ha presentato una denuncia nei confronti del marito, rivelando un retroscena familiare costituito da continui maltrattamenti e sopprusi scaturenti da una irrefrenabile gelosia. Per tale ragione, l'uomo inizialmente è stato sottoposto, pochi giorni dopo, al divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da questa frequentati. Una misura che si è rivelata inefficace. La donna, alla fine del mese di ottobre, si è trovata costretta a rivolgersi nuovamente alla polizia per segnalare la violazione del divieto di avvicinamento commessa dall'ex marito. L'uomo, incurante della misura cautelare, nella tarda serata del 19 ottobre aveva cominciato a girare a forte velocità attorno alla casa della ex moglie, con la propria autovettura, parcheggiando infine davanti al portone della casa della donna. Denunciato sulla basse della nuova normativa, la legge 69 del 2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nota come Codice Rosso, è stato considerato responsabile di aver violato il divieto di avvicinamento. Da qui i domiciliari e l'obbligo del braccialetto elettronico. La CISL Funzione Pubblica non sottoscrive il contratto decentrato del Comune di Paceco. Vediamo il perché. La CISL Funzione Pubblica di Trapani ha deciso di non sottoscrivere il contratto decentrato 2019-2021 con il Comune di Paceco. Il sindacato si è detto contrario ad accordi che siano in violazione delle norme contrattuali e di legge. Secondo il rappresentante territoriale della Federazione, Rosario Genco, si ha l'impressione che si voglia perseguire la strada della continuità dei vecchi accordi, ricercando proposte penalizzanti per tanti lavoratori a vantaggio di pochi, con indennità personalizzate su logiche spartitorie, invece di valorizzare le professionalità e la riqualificazione del personale, le progressioni orizzontali e verticali, incrementare le risorse per la produttività e al tempo stesso ammodernare i mezzi e le attrezzature degli uffici preposti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Accuse pesanti nei confronti dell'amministrazione Pacecota che la CIS ritiene addirittura responsabile di destinare sempre agli stessi pochi le indennità di produzione. Il sindacato ha contestato, in sede negoziale, la violazione di norme contrattuali. La CIS ha anche inoltrato una relazione al Collegio dei Revisori dell'Ente per avanzare i rilievi ad un atto che ritiene illegittimo, annunciando anche l'invio di tutta la documentazione anche agli organi di controllo di secondo livello, se sarà necessario. Infine, una nota di apertura al dialogo. La CIS si appella al buonsenso del sindaco di Paceco e di tutta la Giunta che dovrà adottare l'atto deliberativo del nuovo contratto integrativo decentrato, nel fornire alla parte pubblica della delegazione trattante linee di indirizzo diverse. I cantieri di lavoro predisposti dall'amministrazione comunale di Paceco sono stati approvati e saranno finanziati dall'assessorato regionale alla famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con un importo complessivo di 176 mila euro. Gli interventi prevedono 112 mila euro per la sistemazione della pavimentazione della villa comunale e poco meno di 64 mila per un'area verde all'incrocio tra via Luigi Natoli e la via Maria Giacoma Scaduto, attraverso il temporaneo impiego di una ventina di lavoratori disoccupati. I due progetti sono stati elaborati dall'ufficio tecnico del Comune. L'ex sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, perde il ricorso a CGA. Morfino resta primo cittadino della città dei Marmi. Vediamo. Giuseppe Morfino resta sindaco di Custonaci. Il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si è pronunciato respingendo e dichiarando inammissibile l'appello presentato dal candidato a sindaco Giuseppe Bica, dopo che il TAR di Palermo aveva in primo grado dato ragione al candidato Giuseppe Morfino, riconoscendo valide le schede annullate durante lo scrutinio in una sola sezione e ribaltando così l'esito delle elezioni del maggio 2018. Morfino aveva infatti presentato ricorso al TAR contro la proclamazione a sindaco di Custonaci di Giuseppe Bica, eletto con un solo voto in più. La decisione del CGA, dice il sindaco Morfino, ha rispettato la volontà delle cittadine e dei cittadini. Il mio impegno continuerà per il rilancio economico, sociale e culturale di Custonaci. La città, conclude, ha bisogno dell'impegno di tutti. L'auspicio è quello che le forze di maggioranza e di minoranza lavorino per garantire lo sviluppo di Custonaci. Ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, vi aspetto. Restauro conquistato, il voto sul web assicura l'intervento sul dipinto d'olio su tavola conservato nella cappella della mortificazione di Trapani, il contest nell'ambito della via dei tesori. Guillino Nasi, Tranchida, rilancia. Il sindaco di Trapani chiede all'ex provincia di annullare in autotutela il bando di affidamento. E per lo sport è rientro da protagonista. Felice Vacuo, tornato in campo dopo un lungo infortunio, domenica contro il Chievo è stato l'uomo decisivo. Sua la rete della vittoria. Un dipinto d'olio su tavola custodito all'interno della cappella della mortificazione di Trapani sarà restaurato grazie ai fondi raccolti attraverso il festival della via dei tesori. La scelta del contest lanciato dalla via dei tesori è caduta sul dipinto trapanese grazie al voto di tanti cittadini che, da diversi social, chat telefoniche e pagine web, sono confluiti fino alla pagina in cui gli organizzatori del festival hanno messo in gara sei opere d'arte da restaurare. La domanda era, quale bene vuoi recuperare? Vota il tuo restauro. Trapani ha raccolto il 41,50% dei voti, Marsale il 40,9%, Palermo con le Sfingi l'8,9% dei voti. I primi tre progetti sono ammessi al finanziamento di restauro e gli altri dovranno attendere. La scelta era tra le Sfingi del Gimnasium dell'Orto Botanico di Palermo, la porta storica d'ingresso alla città di Palermo, il portale della Chiesa di San Benedetto a Catania, l'affresco del Salone di Amorelli a Siracusa, la cupola del Campanile del Carmine a Marsala. La cappella della mortificazione, che nello scorso mese di settembre è stata inserita negli itinerari dei luoghi trapanesi da scoprire, è un piccolo scrigno di architettura di arte, inglobato nel complesso dei Domenicani, dietro l'abs della Chiesa di San Domenico, realizzata tra il 1715 e il 1730 sul progetto dell'architetto trapanese Giovanni Biaggio Amico. Nello specifico l'opera da restaurare con urgenza è un bellissimo olio su tavola, realizzato tra il XVI e il XVII secolo da un autore ignoto e raffigura la pietà con le sante Lucia e Agata. Si trova sulla parete d'ingresso della cappella. La pellicola pittorica in più punti è compromessa, ossidata dagli agenti atmosferici o addirittura caduta e questo non permette più la leggibilità delle figure. Molto merito va dato alle associazioni trapanesi agorà e trapani per il futuro, tra quelle che hanno sposato il più ampio progetto della Via dei Tesori. Per i cittadini un percorso di appropriazione e di identificazione, gli spazi della cultura diventano riferimento di nuova aggregazione e di interconnessione. Una formula che a Trapani sembra aver fatto pienamente centro, visto il risultato. Il sindaco di Trapani, ospite della trasmissione Seconda Repubblica andata in onda ieri sera ma che andrà anche in onda oggi alle 15.15 in replica, interviene ancora una volta sulla questione relativa al bando per l'affidamento del Villino Nasi, che come noto è nella proprietà del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani. Il sindaco, dopo che il commissario dell'ex provincia ha deciso di rigettare le proposte arrivate, e fra queste anche quella del Comune Capoluogo, ha preso carta e penna e ha chiesto ufficialmente al Libero Consorzio di annullare in autotutela il bando. Tranchida, in pratica, vuole vederci chiaro. Oggi ho firmato una richiesta a commissario del Libero Consorzio di annullamento in autotutela degli atti che ha prodotto sinora. Perché questo atteggiamento, onestamente, non ci viene la città di Trapani è interessata, fa parte della propria storia, capisco che il Domino Sud dal punto di vista amministrativo è in capo al Libero Consorzio, c'è una procedura che non ci convince, mi fermo qua e abbiamo chiesto oggi un atto formale. L'accesso agli atti? Prima avevate chiesto. No, mi ha chiesto accesso agli atti, abbiamo avuto gli atti, abbiamo visto delle cose che non ci convincono e abbiamo chiesto l'annullamento in autotutela e l'affidamento al Comune di Trapani che per noi risulta essere l'unico soggetto che sostanzialmente aveva la carta regola per andare avanti. Aggiungo, dovevo partecipare, devo partecipare come città di Trapani a un bando imminente, dice tu come fa a sapere, lo so perché faccio parte dell'assemblea del Gallerimos, dove ci sono delle misure finanziarie che servono per recuperare monumenti, eccetera, e noi politicamente come giunta avevamo deciso, guarda caso, in previsione, mesi fa questo, cosa voglio dire, tu non è che con un colpo in bacchetta magica devi programmare, pianificare, progettare, poi come sei pronto, e noi avevamo previsto di finalizzare un investimento sul villino nasi. Rimane aperta comunque una discussione che sostanzialmente tra Regione della Colombaia e Regione 2 per il villino nasi non ci convince quello che sta accadendo. I cittadini trapanesi sono chiamati a decidere come spendere le somme rese disponibili dalla Regione siciliana. L'amministrazione comunale di Trapani chiede ai cittadini di scegliere in quale ambito spendere le somme rese disponibili dalla Regione siciliana sulla scorta della norma che regola il coinvolgimento della cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune e che destina il 2% del trasferimento di fondi regionali. Il comune di Trapani ha individuato quattro ambiti di intervento che vengono sottoposti al parere dei cittadini attraverso l'attivazione di una consultazione pubblica. Primo punto, ambiente, territorio e protezione della salute. Secondo, politiche giovanili. Terzo, promozione attività nell'ambito della tematica Trapani e donna. Quarto, attività culturali. Possono partecipare al quesito tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni, residenti nel comune di Trapani e tutte le associazioni e organizzazioni che vi abbiano sede. La somma disponibile è di 29.000 euro. La preferenza dovrà essere espressa con il modello legato all'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Trapani. Nella sezione notizie la preferenza dovrà aggiungere al comune di Trapani mediante posta elettronica al seguente indirizzo democrazia.partecipatachiocciolacomune.trapani.it oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo entro il 16 dicembre 2019 riportando nell'oggetto la seguente dicitura. Democrazia partecipata 2019. Autoservizi Salemi continuerà a garantire il servizio di trasporto pubblico locale a Castelvetrano e cioè i collegamenti urbani con le frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte e anche il servizio per gli studenti in città. L'amministrazione ha infatti prorogato l'accordo di servizio con l'azienda marsalese. Eventuali rimodulazioni del servizio in virtù di nuove indicazioni da parte della regione saranno concordate tra comune e Autoservizi Salemi. Quest'ultima è in credito con il comune per un importo pari a quasi un anno di servizio. Adesso vediamo le condizioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso con temperature attorno ai 17 gradi, venti deboli da nord-est, mare mosso. Cielo poco nuvoloso con temperature attorno ai 14 gradi, venti deboli da est e da nord-est, mare poco mosso. Cielo poco nuvoloso con temperature attorno ai 14 gradi, venti deboli da nord-est, mare poco mosso. Cielo nuvoloso con temperature attorno ai 16 gradi, venti deboli da nord-nord-est, mare poco mosso. Per quanto riguarda gli appuntamenti di questa sera alle 20 e 30 poi in replica a mezzanotte circa andrà in onda l'incontro di basket Bergamo-Pallaganestro-Trapani. Adesso andiamo in pubblicità ma poi rientriamo con lo sport. Partanna, capitale dell'innovazione. Da ieri fino all'8 dicembre nella cittadina trapanese la prima edizione di Sita, la settimana delle scienze, innovazioni, tecnologie e ambiente. E questo l'approfondimento di oggi. Sette giorni dedicati alle tecnologie più innovative in tema di didattica, ecologia, preservazione dell'ambiente nel campo della programmazione. Dal 2 all'8 dicembre si svolge a Partanna la prima edizione della settimana delle scienze, innovazioni, tecnologie e ambiente. Non c'è dubbio che la nostra comunità già da qualche anno è proiettata attraverso degli investimenti fatti sull'innovazione tecnologica con la struttura del G55. Parallellamente, come ho detto prima in premessa, in unica area della nostra città si stanno attuando e trovano all'allocazione le migliori tecnologie che riguardano le energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico. E' questo progetto sperimentale unico al mondo che è quello del termodinamico con le cose che abbiamo sfruttato questa mattina. E' tutto concentrato in un'area, un parco tematico, energetico, che poi non fa altro che andare a realizzare un hub a tutti gli effetti energetici per il panorama nazionale. A questo si aggiunge anche l'interconnessione che c'è, quella di Terna, con un cavo intercontinentale che proviene dall'Africa e che aggancia all'Europa proprio qui a Partanna. Diciamo che mettere a frutto un po' tutte queste esigenze, tutte queste prospettive, nell'ambito di quella che è proprio un'attività di interconnessione, oggi finalmente ci mette la condizione di poter parlare di futuro, di poter parlare di sviluppo economico, di poter parlare di un cambio culturale radicale che deve e può sicuramente mettere i nostri giovani nelle condizioni di poter trovare lavoro, occupazione e tanta ricaduta economica e sociale. La regione è realmente impegnata nello sviluppo delle rinnovabili e in uno sviluppo serio e onesto soprattutto, bandendo tutti i ladrocini che fino ad oggi purtroppo ci sono stati nel settore, le infiltrazioni, la criminalità organizzata, il parassitismo che spesso ha prevalso rispetto alla produzione e avviando finalmente la Sicilia in un percorso virtuoso di sviluppo, di progresso e soprattutto di rispetto per l'ambiente. Perché le rinnovabili significa non produrre più con i carburanti fossili e quindi rispettare l'ambiente azzerando la produzione di CO2 e l'immissione di CO2 dell'atmosfera. La cittadina del Belice ospiterà esperti di rilevo regionale e nazionale per provare a raccontare le realtà imprenditoriali del futuro e a promuovere figure professionali di ultima generazione in grado di dare nuovi sbocchi lavorativi ai giovani del territorio e a contrastare l'esodo costante verso le altre regioni italiane o all'estero. Incontri con imprenditori innovativi, investitori internazionali, laboratori di programmazione, seminari sullo sviluppo sostenibile, tavole rotonde, presentazione di start-up e talk sui mestieri del domani. L'associazione Apice nasce dal desiderio di considerare le opportunità che su questo territorio si stanno creando e quindi di convogliare tutte le energie disponibili nella prospettiva di un futuro nuovo, della costruzione di un orizzonte valoriale di condivisione rispetto alla consapevolezza delle nuove opportunità che nascono e che i nostri giovani hanno bisogno di conoscere e di avere la possibilità di fruire senza dover per forza ricercare qualcosa lontano. Eccoci con la seconda edizione del nostro Tg, la cronaca, la polizia di Trapani ha identificato e denunciato le due persone che lo scorso 17 di novembre avrebbero accoltellato un minorenne in via Manzoni. La squadra mobile di Trapani è risalita ai presunti responsabili dell'aggressione ai danni di due ragazzi di 17 e 18 anni avvenuta la notte del 17 novembre scorso in via Manzoni a Elice. I due furono ricoverati in ospedale con una prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni per ferite al torace, all'addome e alle braccia. Due giovani sono stati denunciati, uno alla procura della Repubblica di Trapani e un altro a quella dei minorenni di Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, quella sera all'interno di un bar di Trapani vi era stato un litigio per motivi di gelosia fra i quattro ragazzi. A distanza di qualche ora, alle due di notte, la discussione era ripresa, lontano dal locale. Durante la nuova lite, RG, 21 anni, di Trapani, aveva estratto un coltello e colpito i due avversari. RG era poi fuggito insieme al complice minorenne di 17 anni che aveva partecipato alla lite. I due feriti avevano chiamato subito i soccorsi e sul posto erano arrivate un'ambulanza del 118 e una volante. La squadra mobile ha ricostruito l'intera vicenda anche attraverso le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell'accoltellamento. RG e il minorenne sono stati denunciati per lesioni aggravate. Il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, dottoressa Rosanna Penna, che ha coordinato le indagini, ha chiesto per RG il giudizio immediato, considerata l'evidenza del gravo quadro probatorio a suo carico raccolto dagli investigatori. Sottoposto agli arresti domiciliari uno stalker di Castellammare del Golfo. Le indagini sono state svolte dalla Polizia di Stato. Un cinquantenne di Castellammare del Golfo è finito agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braceletto elettronico per atti persecutori contro l'ex moglie. La misura cautelare è stata disposta con ordinanza del GP di Trapani e su richiesta del sostituto procuratore Morri della Procura della Repubblica di Trapani, in seguito alle indagini degli uomini del locale commissariato, presso il quale la vittima ha presentato una denuncia nei confronti del marito, rivelando un retroscena familiare costituito da continui maltrattamenti e sopprusi scaturenti da una irrefrenabile gesosia. Per tale ragione, l'uomo inizialmente è stato sottoposto, pochi giorni dopo, al divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da questa frequentati. Una misura che si è rivelata inefficace. La donna, alla fine del mese di ottobre, si è trovata costretta a rivolgersi nuovamente alla polizia per segnalare la violazione del divieto di avvicinamento commessa dall'ex marito. L'uomo, incurante della misura cautelare, nella tarda serata del 19 ottobre aveva cominciato a girare a forte velocità attorno alla casa della ex moglie, con la propria autovettura, parcheggiando infine davanti al portone della casa della donna. Denunciato sulla basse della nuova normativa, la legge 69 del 2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nota come codice rosso, è stato considerato responsabile di aver violato il divieto di avvicinamento. Da qui i domiciliari e l'obbligo del barciaretto elettronico. La CISL Funzione Pubblica non sottoscrive il contratto decentrato del Comune di Paceco. Vediamo il perché. La CISL Funzione Pubblica di Trapani ha deciso di non sottoscrivere il contratto decentrato 2019-2021 con il Comune di Paceco. Il sindacato si è detto contrario ad accordi che siano in violazione delle norme contrattuali e di legge. Secondo il rappresentante territoriale della federazione, Rosario Genco, si ha l'impressione che si voglia perseguire la strada della continuità dei vecchi accordi, ricercando proposte penalizzanti per tanti lavoratori a vantaggio di pochi, con indennità personalizzate, su logiche spartitorie, invece di valorizzare le professionalità e la riqualificazione del personale, le progressioni orizzontali e verticali, incrementare le risorse per la produttività e al tempo stesso ammodernare i mezzi e le attrezzature degli uffici preposti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Accuse pesanti nei confronti dell'amministrazione Pacecota che la CISL ritiene addirittura responsabile di destinare sempre agli stessi pochi le indennità di produzione. Il sindacato ha contestato, in sede negoziale, la violazione di norme contrattuali. La CISL ha anche inoltrato una relazione al Collegio dei Revisori del Lente per avanzare i rilievi ad un atto che ritiene illegittimo, annunciando anche l'invio di tutta la documentazione anche agli organi di controllo di secondo livello, se sarà necessario. Infine, una nota di apertura al dialogo. La CISL si appella al buonsenso del sindaco di Paceco e di tutta la Giunta che dovrà adottare l'atto deliberativo del nuovo contratto integrativo decentrato, nel fornire alla parte pubblica della delegazione trattante linee di indirizzo diverse. Editoria Servono, regole nuove. Qual è lo stato dell'informazione in Sicilia? Se ne è parlato oggi pomeriggio a Palermo in un convegno organizzato dal Corecom Sicilia, l'organismo di controllo dell'emittenza televisiva e delle telecomunicazioni. Ben trovati con il nostro primo spazio informativo dedicato alla notizia del giorno. Vediamo insieme il servizio. Per contrastare la crisi dell'editoria in Sicilia serve una legge di riforma del sistema informativo locale. E' quanto ha proposto Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, nel corso del convegno Indagini Agicom 2018 e lo stato dell'informazione in Sicilia. Quali regole? che si è tenuto questa mattina presso la sala mattarella dell'Assemblea regionale siciliana su iniziativa del Corecom Sicilia, dell'Agicom, della regione siciliana e dell'Ars. La presidente del Comitato regionale per le comunicazioni in Sicilia ha sottolineato che, a prescindere dagli interventi per il settore dell'informazione previsti nella legge nazionale di bilancio, il sostegno all'editoria di prossimità spetta anche alle regioni. Io penso che una legge regionale che tuteli soprattutto l'editoria locale e gli operatori anche dell'informazione, quindi anche i giornalisti del territorio, deve essere una legge che guardi diciamo complessivamente al settore e quindi non a singoli aspetti della materia, quindi è necessaria una legge organica che tenga conto non solo delle esigenze che emergono in questo momento, delle esigenze critiche, delle criticità che rilevano con riferimento per esempio giornalistico, riferimento alla difficoltà di molti editori, ma è necessaria una legge anche che ridisegni il sistema tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e quindi dell'arrilievo che queste innovazioni hanno sul sistema dell'informazione, perché bisogna guardare comunque al futuro e non si può pensare in una logica che è quella passata. Quindi da questo punto di vista è necessario che anche l'editoria tradizionale in qualche modo sia adegui alle esigenze che emergono nel nuovo contesto, che è un contesto tecnologico e globalizzato. Per quanto riguarda le linee guida credo che un aspetto centrale sia quello delle risorse e quindi della possibilità di reperire i contributi per sostenere e supportare questo sistema. La Presidente del Corecom Sicilia ha poi messo in evidenza la possibilità di fare ricorso ai fondi europei in base a quanto stabilito dalla politica di coesione 2021-2027, Unione Europea già approvata. Tra le priorità di intervento infatti c'è anche sostegno alle piccole e medie imprese e tra queste quelle creative come le aziende editoriali. Bene, con la notizia del giorno ci fermiamo qui, vi aspetto dopo la pubblicità con tutte le altre notizie. Grazie a tutti.